Canale YouTube di Luigi D'Avo Lettere di Santa Caterina da Siena Ne leggeremo una in particolare Parleremo in generale anche di Santa Caterina da Siena Del suo ruolo nella storia della Chiesa E ovviamente anche nella letteratura Che è quello che ci interessa Poiché questa è una lezione di letteratura del 300 Ecco, qualche notizia dicevamo innanzitutto biografica Ovviamente Caterina nasce a Siena Il 25 marzo del 1347 Ed era la ventiquattresima figlia della famiglia Benincasa Che frequentava la chiesa di San Domenico a Siena E lei quindi da sempre è legata a San Domenico E infatti poi dopo diciamo che sarà una religiosa domenicana A circa 16 anni nel 1363 Desiderando essere religiosa Ma forse non disponendo di una dote sufficiente Per i monasteri del tempo Chiese di entrare tra le mantellate di San Domenico Cioè suore, chiamate così, per il mantello che portavano Domenicane Non era una scelta consueta Perché si accettavano in genere donne vedove o più mature Ecco, era una giovane molto molto religiosa Che da subito rivela una profondità Un misticismo particolare Passava degli anni addirittura In silenzio, in meditazione, in preghiera In digiuno E poi, appunto, entra in questo monastero Comunque di Siena Frequenta la cappella delle volte di San Domenico Dove si trattiene a pregare Ma subito si mostra particolare Come suora, no? Nel senso che certamente ha questa vocazione Profondamente religiosa La preghiera, il misticismo Ma è in grado anche di fare delle cose Che subito la fanno notare Come infermiera, come consigliera Come maestra di vita spirituale All'interno della piccola comunità Poi mediatrice di pace Anche con un orizzonte ben più ampio Insomma, Santa Cateria da Siena È la patrona d'Italia E se è grande Francesco D'Assisi Non possiamo sminuire il valore di questa donna Perché è stata una donna Molto, molto ferma, decisa Con i papi, in modo particolare Ma con tantissime altre autorità Ha fatto capire cosa voleva lei Cosa consigliava, insomma Che facessero i potenti del tempo A 26 anni Riceve molte critiche tra le sorelle Diciamo tra le altre suore Anche un po' gelose, invidiose Perché incontra troppe persone Ha molti amici Tra cui molti uomini Che talvolta poi si convertono Forse ha dei doni spirituali Di cui si chiacchiera E allora ci sono delle chiacchere Delle dicerie Dei dubbi, insomma Sulla castità di Caterina E viene sottoposta A una specie di ispezione Le viene imposto di andare a Firenze Al capitolo generale dell'ordine Per essere esaminata E riceve come confessore Fra Raimondo da Capua Che ha proprio questo Questo incarico Di verificare La vocazione di Caterina Il punto è che Quando Fra Raimondo da Capua Incontra e conosce Caterina E diventa effettivamente Suo confessore In realtà poi scopre che è pura È una donna pura E che ha molto da imparare Lui da lei E lei descriverà delle lettere Tra cui appunto Quella che leggeremo oggi Questa è Avignone In cui all'epoca Era ancora il Papa Quindi in Francia Caterina è convocata Ufficiosamente per mediare Tra Firenze Che era sotto l'interdetto papale Quindi grave contrasto Col Papa E il Papa Che era appunto Risiedeva ad Avignone Come possiamo vedere Questa è un'immagine Insomma della sede Del papato di Avignone E così lei Prima manda alcuni Suoi discepoli Ad Avignone Intermediari Ma poi Caterina stessa Li raggiunge Di persona Il 18 giugno Del 1376 In quello stesso anno Il 13 settembre Gregorio XI Parte per l'Italia Ed è evidente Insomma Il ruolo Importante Che svolge Caterina Nel convincere Gregorio XI Ad andare A Roma In Italia Qui Si giocano Delle sorti Decisive Nella storia Della chiesa Nella storia Dell'Europa Del 300 Con Caterina Che spinge Per il ritorno Del Papa A Roma Attraverso Dicevamo La sua influenza Le sue lettere Lei così piccola Così insignificante Una piccola suora Però Svolge un ruolo Importante Per esempio A 30 anni Nel 1378 È inviata Dal Papa A Firenze Per nuove trattative Ma il 27 marzo Muore Papa Gregorio XI E' eletto Papa Urbano VI Che è italiano Sotto la minaccia Della folla di Roma Che rivendicava Un Papa italiano Dopo tanti Papi francesi Che si erano succeduti Più o meno Dal 1305 Fino appunto A quest'anno Qui Al 1378 Tuttavia Dopo l'elezione Urbano VI Diventa dispotico Intrattabile Oltre ogni dire Qualcuno parla Di malattia psichica Può darsi però Che queste critiche Vengano anche Da chi Invece desiderava Che il Papa Fosse ad Avignone Sta di fatto Che Caterina Prende le difese Di Urbano VI E fa di tutto Per farlo Rinsavire E per Considerarlo E proteggerlo Come Papa Della Chiesa Di Roma Però Il 20 settembre Con il sospetto Che l'elezione Di Urbano VI Fosse avvenuta Per paura E' eletto Un Papa Francese Clemente VIII Dalla maggioranza Dei cardinali Si hanno così Due papi Uno italiano L'altro francese Inizia il grande scisma Che dura 40 anni Quindi meno oltre La vita di Santa Caterina Però E' gettato il seme Che L'ha gettato anche Caterina Se vogliamo Che poi farà sì Che Che il Papa Ritorni a Roma Caterina viene richiamata A Roma Ad Urbano VI E vi arriva Il 28 novembre Vive a Roma Per circa due anni Incontra alcune volte Il Papa E i cardinali A lui fedeli Scrivendo molte lettere Per cercare di convincere Le autorità Religiosa E i laiche A riconoscere Urbano VI Come Papa Legittimo E quindi A far terminare Questo scisma Nel frattempo Le armate mercenarie Saccheggiano l'Italia Al soldo Delle diverse forze In campo Quindi ovviamente Le tensioni Non sono finite Non sono terminate Però ripeto Caterina Ha svolto Un ruolo importante E' vero Che i papi Le hanno chiesto Di fare da diplomatica Da ambasciatrice Da consigliera Appunto Questa lezione Verte su questo Capolavoro Possiamo dire Di Santa Caterina Che sono le lettere Tuttavia lei ha scritto anche Il dialogo della divina provvidenza E poi delle orazioni Quindi dei discorsi Quali sono le tematiche Che ha toccato Santa Caterina Da Siena La preghiera Per il rinnovamento Della chiesa La dottrina Del Cristo Ponte Il dialogo Con le città italiane Per la pace Insomma Aveva una concezione Di grande apertura Di grande accoglienza Pregava E implorava Tutti i potenti Dell'epoca Che facessero pace E che la chiesa Fosse unita Il dialogo Con il Papa Per la riforma Della chiesa E il ritorno Della sede pontificia A Roma Infatti È evidente Che la Diciamo La cattività Vignonese Chiamata così Una sorta quasi Di prigionia Del Papa In Francia Non era Ben vista Da Caterina Per questo Semplice fatto Che il Papa Era diventato Quasi una marionetta Nelle mani Del re di Francia Mentre Caterina Voleva che fosse Autonomo Indipendente Ovviamente A parte queste tematiche Ce n'è anche un'altra Che è appunto Quella che troviamo In questa lettera Ecco Proprio come Esempio significativo Di questo aspetto Mistico Che Completa Insomma Le tematiche Delle lettere Di Santa Caterina Da Siena Leggiamo adesso Questa lettera Che lei scrive A frate Raimondo Da Capua Raccontandole Sicuramente Una sua esperienza Però È ratissimodianza Anche di come Lei sia diventata Le stesse L'insegnante E quindi Punto di riferimento Per quello Che avrebbe dovuto essere Il suo Inquisitore Tra virgolette Il suo Ispettore Chiamiamolo così Almeno questo Per l'intento Delle sue sorelle Un po' invidiose Convincerli A ritornare a Roma A unire la chiesa Ecco Per questo Abbiamo spiegato Che sono queste Le tematiche fondamentali Però Non si può capire Questo Se non si capisce Il fondamento Mistico Diciamo Ideologico Se vogliamo Del perché Caterina fa Queste cose No E lo possiamo capire Da questo brano Nella prima lettera Di questo brano Per esempio Si rivolge in questo modo A Raimondo da Capua E ad altri interlocutori Dice Che ha il desiderio Di vedervi affogato E annegato Nel sangue dolce Del figliolo di Dio E il quale sangue Intriso col fuoco Dell'ardentissima Carità sua Cioè capite Dice a questo frate Che vuole vederlo Affogato E annegato Nel sangue di Cristo Diciamo L'ho già detto Sono immagini forti Vedete che Io per esempio Ho evidenziato In questa lettera Di Caterina Quante volte Ritorna la parola Sangue Che è Spesso collegata Col fuoco E intriso Col fuoco Dell'ardentissima Carità sua E con altre Immagini Cristologiche Come quelle Per esempio Dell'agnello Svenato Con tanto Ardentissimo Amore Perché il punto Di riferimento È sempre questo L'imitazione di Cristo Che si è sacrificato Come un agnello Un'immagine biblica Questa Evidentemente E quindi È stato Ucciso Per amore Dico Che se non fusti Annegati nel sangue Non perverresti Alla virtù piccola Della vera umiltà E qua ci viene in mente Un po' San Francesco Che era anche lui Molto radicale Su questa questione Dell'umiltà Dice Caterina Per ottenere Questa umiltà Bisogna essere Annegati nel sangue Cioè bisogna essere Compartecipi Della passione di Cristo E così ancora così Voglio che vi serrate Nel costato Uperto Del figliolo di Dio E il quale È una bottiga Aperta piena D'odore È un'immagine forte Perché anche questa È un'immagine Che viene insomma Da Vangelo Quando Cristo è stato Trafitto Nel fianco Nel costato E da lì Usciva sangue e acqua Anche qui Sangue e acqua Sono presenti Anche in questa lettera Di Caterina Ed è una bottiga Aperta piena D'odore Cioè queste cose Che a noi Risultano quasi Orrende Orribili Questi particolari Quasi macabri Invece per Caterina Sono in mezzo Lo strumento Attraverso cui Si attua Questa compenetrazione Fra l'uomo e Cristo Il buono e dolce Gesù Sangue e fuoco Ancora Infine che vediamo Spargere il sangue Con dolci E amorosi desideri Tutta questa premessa È utile Per capire poi Il racconto Che lei fa Infatti dice Padre dolcissimo Si rivolge a questo frate Raimondo da capo Raccontandole che Dice Ho cominciato già A ricevere uno capo Nelle mani mie Ci ho fatto già esperienza Di questa Radicalità Insomma Perché Ho ricevuto Una testa Nelle mie mani Cioè anticipa Una specie di prolessi Quello che spiegherà dopo Cioè che ha accompagnato Un condannato a morte Nel giorno della sua esecuzione Questo condannato È stato decapitato E quindi lei poi Ha preso la sua testa E questa cosa Comunque Lei l'ha vissuta Come Appunto vi dicevo Immedesimarsi Nella passione Di Cristo E quindi per lei Non è stata qualcosa Di orrendo Di orribile Anzi Come vedremo Addirittura È stata Contenta Di essere Macchiata Del sangue Di questo condannato A morte Perché Si è attuata Così Questa Compartecipazione Ecco allora dice Andai a visitare Colui che vi sapete Cioè Dice a frate Raimondo Da capo Andai a visitare Questo condannato A morte E fece Misi promettere Per l'amore di Dio Che quando venisse Il tempo della giustizia Io fusse Con lui Cioè Praticamente E li ricevette Tanto conforto Dalla Visita Di Caterina È consolazione Che si confessò Disposesi Si dispose Molto bene E si fece promettere Da Caterina Che il giorno Dell'esecuzione Lei sarebbe stata Vicino a lui E così Promisi E fece Effettivamente Poi la mattina Cioè la mattina Di quel giorno In cui lui Stava per essere Insomma Decapitato Abbiamo detto Innanzi la campana Prima che suonasse La campana Andai a lui Ricevetti Grande consolazione Menalo A udire la messa Lo condussi Ad udire la messa Ricevette La santa comunione La quale mai più Non aveva ricevuta Era quella volontà Accordata E sottoposta Alla volontà Di Dio Quell'uomo Quel disgraziato Quel poveraccio Che stava per morire Però va Alla morte Consolato Insomma Sottoposto Alla volontà Di Dio Insomma Lei dice Cerca di confortarlo E lui si fa Confortare No Da questa Dalle parole Di Caterina E quindi Lo accompagna E diceva Io andarò Tutto gioioso e forte E parrammi mill'anni Che io ne venga Cioè Addirittura Questo condannato a morte Vedete alla fine Di questa slide Dice Sarò ben contento Di andare Non vedo l'ora Anzi Che arrivi il momento Del mio trapasso Perché sarà un trapasso Verso Una vita migliore Così Le dice Le dice Caterina E infatti E li gionse Come un agnello Mansueto Ancora Ritorna Questa immagine Di Cristologica Insomma Di un agnello Sacrificato E vedendomi Cominciò a ridare Vedendo Caterina Il condannato Era felice E volse Volle Che io gli facesse Il segno della croce E ricevuto il segno Dissi Giù A questo punto Caterina disse Giuso alle nozze Non avere paura Fratello Vai giù Alle nozze Cioè Congiungiti Con Dio Fratello mio dolce Che te stessa Rai alla vita durabile Fra pochissimo tempo Tu sarai Nella vita eterna Cioè sarai nel paradiso Posesi giù Con grande Mansuetudine A questo punto Questo condannato a morte Affronta appunto Questa esecuzione capitale Con grande Mansuetudine Prima aveva detto Come un agnello Mansueto Mansuetudine Cioè praticamente Si è attuata Questa Compartecipazione Cioè così come era stato Condannato a morte E ucciso Violentemente Cristo Così lui E' contento Quindi questo Condannato a morte Di partecipare Alla sofferenza Di Cristo E io gli distesi Il collo E chi nami giù Era mentale E sangue Dell'agnello Lui si pose giù Qua dice Ma pensate che addirittura Qualche riga prima Lei Caterina dice Posimi giù E distesi il collo Sul ceppo Cioè aveva messo La sua testa Caterina Sul ceppo Nella quale poi Doveva essere messa La testa Del condannato Come voler essere Uccisa anche lei Perché Desiderava Anche lei Di raggiungere Il più presto possibile Questa comunione Con Dio Ovviamente Chi era presente lì L'ha allontanata Poi L'ha fatto togliere Il collo Lì dal ceppo Perché non era Il suo collo Quello che doveva stare Su quel ceppo Ma quello Di quel condannato a morte Ma questo condannato a morte È contento Di questa cosa La bocca sua Non dice Le ultime cose Che dice Questo condannato a morte Sono Gesù e Caterina Se non Gesù e Caterina Queste sono le ultime parole Di questo Condannato a morte Prima di morire E così dicendo Ricevetti È il capo Nelle mani mie Cioè Quello che aveva anticipato prima Si compie l'esecuzione E lei Prende La testa di lui Nelle sue mani Fermando l'occhio Nella divina bontà Dicendo Io voglio Lo voglio Cioè In questa estasi mistica Questa esecuzione Capitale Come abbiamo già spiegato Non è qualcosa di orrendo Per Caterina Ma Suscita un efflato Diciamo Di mistico Di Di gioia Di partecipazione Di desiderio Di raggiungere Il più presto possibile Il paradiso Allora si vedeva Dio e uomo Come si vedesse La chiarità del sole E stava aperto E riceveva sangue Nel sangue suo Ecco A Visione mistica C'è di Cristo Che accoglie l'anima Di questo condannato a morte Uno fuoco Di desiderio santo Sangue Fuoco Sempre Abbiamo detto in questo brano Ripetuti più e più volte Accostati l'uno all'altro Dato e nascosto Nell'anima sua Per grazia Riceveva nel fuoco Della divina sua carità Poiché ebbe ricevuto Il sangue Il desiderio suo Ed egli ricevette L'anima sua E la mise Nella bottiga aperta Del costato suo Come vedete Ci sono ripetizioni Anafore Degli stessi concetti E' successo Questo condannato a morte Che Gesù lo ricevette Nel costato Nella bottega aperta Del suo costato E quindi Che si è realizzato Questo sogno Di unione A Cristo O quanto era dolce Inestimabile Vendere la bontà Di Dio Con quanta dolcezza E amore Aspettava Quell'anima partita Dal corpo Quando venne Entrare dentro Nel costato Bagnato Nel sangue suo Che valeva Per lo sangue Del figliuolo Di Dio Ecco Abbiamo detto Il sangue Di questo condannato Su Caterina E per lei Immagine Valeva Per lo sangue Di Cristo Del figliuolo Di Dio Così ricevuto Da Dio Per potenza Fu potente A poterlo fare E il figliuolo Sapienza Verbo incarnato Gli donò E fece Di partecipare Al crociato amore Cioè Cristo Dona A quest'uomo A questo condannato A morte Ma morto In grazia di Dio Di poter partecipare Alla sua passione Sulla croce Col quale Gli ricevette La penosa E obrobriosa morte Perché La morte di Cristo E' stata una morte Tremenda Orrenda Orribile Dolorosa Penosa Obrobriosa Umiliante Come era la morte Sulla croce Che prevedeva appunto Che il condannato a morte Soffrisse delle pene terribili Per l'obbedienza Che egli osservò Del padre Inutilità Dell'umana natura E generazione Ma Cristo aveva fatto Tutto questo Era andato incontro A questa sofferenza Per la salvezza Dell'uomo E poi ancora Andando verso la fine Della lettera L'anima mia Si riposò in pace In quiete In tanto odore Di sangue Contenta quindi Caterina Di essere Stata tutta quanta Bagnata dal sangue Di questo Di questa esecuzione Capitale Che io non potei Sostenere Di levarmi Il sangue Che io addirittura Non potevo sopportare Di lavarmi Come a noi Risulterebbe Molto più naturale Il più prezzo possibile Liberarsi Da vesti Così impregnate Dal sangue Di un uomo morto Che mi era venuto Addosso Lei invece Non poteva sopportare Di levarsi Questo sangue O a me Misera Miserabile Non voglio dire più Rimasi nella terra Con grandissima invidia Addirittura invidiando La sorta di quest'uomo Che era morto Parmi che la prima pietra Si apposta Insomma Come dire Termina questa lettera Caterina Ritornando a dire Quello che aveva detto All'inizio A frate Raimondo Da capo Questo è solo Un esempio Un'esperienza Che può essere utile Sulla strada Della nostra Ascesi E però Perciò Non vi maravigliate Se io non vi impongo Che il desiderio Di vedervi Altro Che annegati Nel sangue Nel fuoco Che versa E costato Dei figliolo di Dio Adesso che vi ho spiegato Tutta quanta Questa esperienza Capite bene Quello che vi ho detto All'inizio E non dovete stupirvi Se io Non vi impongo Che il desiderio Non vi impongo Nessun altro desiderio Di vedervi altro Se non annegati Nel sangue E nel fuoco Che versa Il costato Del figliolo di Dio Or non più Negligenza Quindi Non accampiamo Più scuse Non abbiamo paura Più nessuna Trascuratezza Più nessuna Indolenza E pigrizia Figlioli miei Dolcissimi Poiché il sangue Cominciò a versare E a ricevere vita Poiché questo sangue È il mezzo Lo strumento Attraverso il quale Ricevere una vita La vita eterna La vita durabile No Dice Molto alta Spirigiosa Spirituale Diciamo Di una spiritualità Molto elevata Però non si può capire Anche La radicalità Con la quale Lei richiamava I papi Se non Conoscendo anche Quanto era radicale Con se stessa Se vogliamo No Nel suo percorso Diciamo Spirituale È un po' come Quando Madre Teresa Spiegava A chi Chiedeva Stupito Come mai Lei si dava da fare Così tanto Per quei poveracci Mendicanti Che stavano morendo E le spiegava Che vedeva Cristo In quei moribondi La stessa cosa Non si potrebbero capire Queste grandi donne Se non si capisse Il motivo Per cui Sono arrivate Delle scelte Così radicali Nella loro vita Altri video didattici Su A tuttascuola Punto It A tuttascuola A tuttascuola A tuttascuola A tuttascuola Grazie a tutti